NINFEA A-S-M-R Ciao a tutti, ninfetti, come state? Allora adesso io finalmente sto bene Ma ho passato una settimana la scorsa con un'influenza terribile Quindi è per questo che la programmazione settimanale è stata un po' ballerina Mi dispiace, però davvero sono stata KO per almeno 5 giorni Davvero devastante Ma ora sto di nuovo informissima e pronta per mostrarvi alcune cosine che mi sono arrivate dal sito Shein Il mio sito praticamente preferito per lo shopping online E sono in realtà 5 capi che mi hanno inviato loro E 2 capi che ho comprato io E tra l'altro non ho neanche potuto usare il mio sconto Perché ero un po' sotto la cifra minima Che adesso tra l'altro è stata abbassata Se non sbaglio a 29 euro la cifra minima per poter usare lo sconto Quindi comunque come sempre trovate tutte le info qui sotto Compresi i link dei prodotti E il mio codice sconto Ma allora il pacco mi è arrivato come sempre Con la loro carta brandizzata In questo caso il pacco è vuoto Perché io ho già tirato fuori tutte le cosine E le ho già provate In modo da potervi già dire come mi stanno E darvi tutti i dettagli Allora Partiamo subito con una magliettina Che mi è piaciuta tantissimo Allora Certo è lo sfondo nero In modo da potervi far vedere i capi Insomma su uno sfondo neutro Questa è una magliettina Molto elegante In velluto blu notte Con il Ops Ha rimasto un capello Mio ovviamente Con il collo Abbastanza altino Nel senso che rimane proprio a girocollo E Con la particolarità Di questo velluto Blu Che si intervalla A questo dettaglio Di rete nera O meglio non è proprio rete È un tessuto velato Come se fosse una sorta di tulle La magliettina La magliettina Ha le maniche Lunghe E in questo caso Le maniche vanno abbastanza bene Non sono corte Sono diciamo giuste Giuste È davvero molto molto morbida E credo che il tessuto sia sintetico Sia poliestere E spandex La taglia È una taglia S Questa magliettina Aspetto a farvela vedere Perché Ve la voglio mostrare Con una Parte sotto Il colore Il colore Non si match Perfettamente Ma Insomma Ci può stare Sicuramente Io la magliettina La metterò Con Ho un pantalone Nero Magari anche Di perle Perché avendo questi Inserti Di tulle Nero Credo ci stia bene In ogni caso Il secondo capo Che vi mostro È un Jeans A vita alta Di un blu Abbastanza scuro Da stare Abbastanza Bene Con la magliettina Di prima Queste sono Le mie bustine Preferite Per quanto riguarda Il Crickly Crickle Sounds Queste opache Sono Alla fine Del mondo Bene Allora I jeans Sono fatti così Hanno la vita Piuttosto Storta Come vedete Sono di questo Bell Blu Con le impunture Le cuciture Gialline Dietro Hanno due Tasche Vere Quindi Sono proprio Due taschine E Finiscono Con Un Resvoltino Come vedete È un Resvoltino Cugito Quindi È fatto È fatto Proprio Così E Sulla Gamba C'è il dettaglio Di queste Finte Graffiature Questi finti Non sono strappi Sono finti Graffi Sia da una parte Che dall'altra Mi piace molto Il ravaggio Leggermente Scolorito Del jeans E devo dire Che Mi vestono Bene E Non sono Per fortuna Eccessivamente Corti Avevo paura Che Come Altri capi Che purtroppo Essendo taglie Piccole Questa Credo sia una S Se non sbaglio Vediamo se trovo Il cartellino Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Una S Sì E sono Ciò che ci sono Vi dico Le composizioni 85 Cotone 13 Polyester 2 Spandex Quindi è prevalentemente Cotone E A volte Mi capita Appunto Che con le taglie Piccoline La lunghezza Non sia Quella giusta Per me In questo caso Sono Abbastanza Lunghi In ogni caso Con Uno stipaletto Vanno Assolutamente Bene Quindi ora Vi mostro Questi due capi Insieme Anche se Secondo me Non è la morte Sua Però insomma È giusto Per mostrarvi La coppia E quindi Ecco 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 La clip La clip La clip Questi sono I due capi La magliettina La adoro La trovo Molto Molto Elegante Nella combinazione Di questi Due colori Il belluto Blu E la retina Nera Anche Anche i jeans Vestano bene Hanno La vitalità E rimangono Skinny Quindi Stretti Sulla Gamba Molto carino Anche il Risbollettino Risbollettino Che dà Un'aria Un pochino Meno Classica Alla jeans Il colore Del jeans Mi piace Molto In questo Blu scuro Che sinceramente Non avevo Nell'armadio Eccoli qui Eccoli qui Eccoli qui Bene Questi erano I due capi Indossati In questo caso Insieme Anche se Ripeto Questa magliettina La vedo bene Con una parte sotto Nera Proprio per la presenza Del nero Anche nella maglietta Stessa Quindi Non vedo l'ora Di Provarla Non è così Classica Da meritare Un'occasione speciale Insomma Per una qualsiasi Uscita Secondo me Va benissimo Bene Passiamo ora Al terzo Capo Che Mi allungo Questo è un capo Un po' strano O meglio È molto carina Indossata Ma Quando l'ho vista Per la prima volta Mi è sembrata Un po' Una cinesata In realtà In realtà Non lo è Allora Si tratta Di questa Conna Di pelle Nera Cioè Pelle Ovviamente Simile Pelle Che ha La particolarità Di avere La vita Leggermente A V Non so se si possa Apprezzare Avendo lo sfondo Nero dietro Però Rimane praticamente Così In vita E poi Ha questi Bottoncini Oro Che mi ricordano Un po' I bottoni Delle giacchette Dei marinai Che a mio avviso Sono molto Molto Carini Il retro Invece È Semplice Perché dico Che mi è sembrata Un po' Una cinesata Perché la pelle Ha un odore Un po' Strano E io Non so Come Si possa Lavare Se a mano Non lo so Magari provo a metterla In lavatrice I soliti Misti 30 gradi Che Di solito Vanno sempre bene È una taglia S E A questo punto Sono curiosa Di leggere la composizione Poliestere Cotone Cotone Dov'è cotone? Poliestere Cotone E Leather PU Che è la Perle finta Con penso Fa un bellissimo Suono Molto ricco Di suoni Questo Drian All Dietro C'è una C'è una Cerniera Che va A chiudere La gonna E addirittura Un Gancettino Per andare Poi a Fissarla Per evitare Che si Apri Ovviamente Ok In questo caso La taglia È Perfetta E Ve la farò Vedere Indossata Con Alcuni Capi Che adesso Vi mostro Allora Vi mostro Uno dei due Capi Che ho preso Per me Quindi che ho Comprato È un Capo Che ho preso Per il palco Si tratta Di questa Magliettina Olografica Come vedete Cambia colore A seconda Della luce Che le batte Sopra Quindi ha riflessi Oro Viola Su base Nera Ed è Trasparente Quindi Ci va Assolutamente O un Reggiseno Coprente Al di sotto Vedete Che è proprio Trasparente O un Toppettino Insomma Va messa Con sotto Qualcosa Ha le manichine Corte E il collo Abbastanza Alto Insomma Molto Collata E ha tutte Queste Stelline Argentate Che mi avviso Sono molto Carine Rimane Piuttosto Corta Ma non Cortissima Quindi possiamo Definirlo Un crop Top Ma non Eccessivamente Crop Davvero Davvero Carina E quindi Ve la mostro Che taglia è Scusate Ve lo dico Subito Se trovo Se trovo Ecco L'etichettina È una S Sto guardando Perché ricordo Di aver preso Un XS Da qualche parte Ma Non ricordo Su che capo Per ora Tutte S Quindi Vi mostro Questa Magliettina Abbinata Alla Conna Di prima Anche in questo caso Non so se Poi effettivamente Le metterò Insieme Perché Questa Magliettina Qua L'ho già provata Con Gli skinni Di perle Ed è stupenda Con la gonna Non lo so Però Ora ve la mostro Così Quindi Ecco La Clip La clip La clip La clip Ecco Qui La Maglietta Molto Carina Mi piace Tantissimo Questo Tessuto Così Olografico E queste Stelline Argentate Al di sotto Ovviamente Ci serve Qualcosa Di Coprente Perché La maglia Come vedete Rimane Trasparente Essendo Una sorta Di Tulle La gonna È molto Carina Veste Bene E ha La particolarità Di queste Arricciature Che vanno A creare Un gioco Molto Originale Anche I bottoni Sono Particolari E riprendono Il riflessio Della Maglietta Tutto Sommato L'abbinamento Non è Male Ecco Qui Anche La gonna Eccolo Eccolo Qui Molto Carino E Questi Erano I due Capi Intossati E Non mi Dispiace Affatto Anche L'abbinamento Devo Dire E Ecco Qui Oltre A questa Magliettina Ho acquistato Un altro Top Sempre pensato Per il palco Anche se in realtà Me lo immaginavo Un po' Più Argento E un po' Meno Violetto Perché I colori Della Band Sono Nero Argento Però Troverò Il modo Di utilizzarlo Anche perché È un top Che mi piace Tantissimo Il top È questo Anche se in tessuto Olografico Con riflessi Azzurri È viola Ha una Scollatura Quadrata Che è davvero Molto Particolare E Probabilmente Rende ancora Di più Con un seno Un po' Prosperoso Io vabbè C'è quello che passa Al convento Però Con Un bel Push up Insomma Fa più che bene La taglia È una S E il tessuto Credo sia sintetico Perché lo trovo Bello elasticizzato Polyester Spandex Sì Ma Lo sentivo Perché è proprio Molto Elasticizzato Abbastanza Pesantino Sul retro Rimane Accollato E in generale Comunque Il taglio È crop Quindi è un crop Top Questo è proprio Crop Crop Perché Non arriva Assolutamente L'obelico Mi piace Tantissimo Tantissimo E vabbè Per comodità Ve lo farò vedere Sempre con La stessa Conna Di prima Anche se non C'è zecca Nulla Però Almeno Rimango Sempre Sui capi Di Shin Lui Me lo vedo Molto bene Con un Pantaloncino Nero Quindi Magari Con Un Qualcosa A meno Forse A vita Alta Di questa Conna In modo Da lasciare Un pochino Scopertolo L'obelico Quindi A vita Media Ovviamente È un Top Da palco Da discoteca Da Magari Aperitivo Sulla Spiaggia Non è un Top Per uscire Tutti i giorni Però Lo trovo Davvero Molto Molto Carino Ve lo mostro Subito Indossato Ecco la Clip Ecco la Top Indossato Mi piace Tantissimo Sia La scollatura Che Questi Effetti Di colori Gancianti Che variano Dal Blu Azzurro Al Piola Lilla È Molto Metallizzato Molto Appariscente E Fa Molta Scena Soprattutto Sul palco Con le Luci Davvero Davvero Carino In questo Caso Abbinato Con La Donna Di Prima Ma Io Ho Già In Vente Altri Abbinamenti E Questo Era Il Top Il Secondo Top Che Ho Comprato Quindi Questi Sono I Mie Due Acquisti Proprio Acquisti Ma Ora Torniamo A ciò Che Mi È Stato Invece Inviato Da Shin E Abbiamo Ancora Due Capi Da Vedere Il Primo Si Era Inquillato Il Tavolo Eccolo Qua Il Prima Vestito Primaverile Mi Sono Portata Avanti Anche se Come sapete Per me Le stagioni Non esistono Cioè Da settembre a maggio È un lungo Grande Inverno E poi Io torno A vivere In estate Quindi I tre mesi Da giugno A settembre No Quindi Quattro mesi Giugno Luglio A settembre Allora Questo è Un vestitino Di un bel Tessuto Credo sia Un tessuto Naturale Mi sembra Cotone Adesso ve lo dico subito Comunque È un vestitino Di questo bel Verdone È un verde Quasi Smeralto Però Spento Verde Petrolio Petrolio Ha sempre Una scollatura Quadrata E in questo caso Ah ecco E lui Che ho preso L'XS Perché Le misure Sul sito Insomma Erano Erano indicative Della mia taglia Ha una vita Leggermente più stretta E poi Scende Quasi a palloncino E anche Le maniche Sono Dove sono Le maniche Sono A palloncino Non so se si riesca A capire bene Da qui Ma sicuramente Una volta Indossato Sarà tutto Molto più chiaro Quindi Vi diceva Una XS E adesso Vediamo se riesco A trovare info Precise Sul tessuto Però così Sentendolo Tra le mani Mi sembra Un tessuto Naturale 100% Cotone Dietro Ha ovviamente La sua Cerniera Per Essere Indossato Comodamente Adesso può andare Ancora un po' più giù E Io direi Di vederlo Indossato In modo da Capire bene Com'è il Modello Quindi Ecco La clip Questo è Il vestitino Indossato È molto Molto Fresco Molto Primaverile Sulla mia Altezza Risulta Piuttosto Corto Quindi Si può Indossare Effettualmente Con Dei Leggings Io Probabilmente Lo indosserò Senza Ma Diciamo Che Non Ho Problemi A Indossare Anche Cose Abbastanza Corte Le Maniche Risultano A Palloncino Palloncino E La Pita Come Vedete È Abbastanza Stretta Quindi Non Ha Un Effetto Sacco Però Io Lo indosserò Con Eccolo Qua Lo trovo Davvero Molto Primaverile Anche Per il Tessuto Fresco Il Gotone Mi piace Molto Eccolo Qua Eccolo Qua Eccolo Qua Eccolo Qua E questo Era Il Vestito Indossato Sono Stata Abbastanza Affortunata Anche Stavolta Con Le Scelte Perché Insomma Mi va Tutto Bene E Credo Proprio Di Aver Azzeccato Soprattutto Cose Che Non Avevo Nell' Armadio Perché Poi Comprando Online Avendo La Possibilità La Fortuna Di Ricevere Anche Capi Di Appegliamento A Tito Gratuito Spesso C'è il Rischio Magari Di Riempirsi L'armadio Di Cose Uguali Capi Simili E Cerco Sempre Davvero Di Cercare Qualcosa Che Non Ho In Modo Da Non Sprecare Tra virgolette Queste Opportunità E Sicuramente Un Capo Di Quel Colore Non Ce L'avevo Cioè Quanto Viene Un Vestito O Maglioncino Così Sempre Di Jeanne Tra l'altro Anche Questo Di Jeanne Cioè Io Le metto Quasi Sempre Le cose Che Mi Mandano Anche Perché Ormai Compro Pochissimo Dei Negozi Ma andiamo All'ultimo Ultimo Capo Che Mi è Stato Mandato E E Anche Questo È Un Gran Vestito Questo È Un Vestito Nero Infatti Forse Non Vedrete Molto Sul Nero È Un Vestito Di Velluto Che Ha Un Taglio Molto Molto Particolare In Quanto Ha Questa Spalla Scoperta Da Una Parte Quindi La Parte Sinistra E Questo Dettaglio Della Spalla Leggermente Scoperta A Destra Le Maniche Sono Lunghe E Il Vestito In Rialta È Un Mini Dress Quindi Finisce Abbastanza Corto Non Cortissimo Ma Abbastanza Corto Questa È Una Taglia S Non C'è Il Cartellino Forse Ah S C'è È Una Taglia S A Me È Leggermente Grande Cioè Come Vedrete Mi Sta Bene Vi Sarebbe Piaciuto Un Pizzichino Più Stretto Ma Va Benissimo Anche Perché È Un Vesito A Mio Avviso Molto Sensuale Molto Carino E Sicuramente Lo Indosserò Non Vedo L'ora Perché Lo Trovo Davvero Elegante E Magari Con Qualche Bel Gioiello Argento Magari Degli Orecchini Una Scarpa Carina Secondo Me Fa La Sua Porca Figura Quindi Vi Mostro Anche lui Indossato Che è Il nostro Ultimo Capo E Quindi Eccola Clip Con Il vestito Indossato Adoro Il dettaglio Delle spalle Così scoperte Che danno Comunque Parecchia Sensualità È È Abito Che Pur Essendo Comunque Elegante A Mio Avviso Riesce A Essere Sensuale Allo Stesso Tempo Mi Piace Davvero Tanto Il Velluto Il Velluto Lo rende Invernale Autunnale La Lunghezza A Mio Avviso È Giusta Per Il Tipo Di Abito Io In Questo Caso L'ho Indossato Con Questi Tronchetti Ma Credo Che Stia Molto Molto Bene Anche Con Degli Stivali Aldi Quindi Aldi Sopra Il Ginocchio Molto Molto Carino Eccolo Anche Dietro Eccolo Qui Questo Era L'ultimo Capo Indossato Io Come Sempre Sono Molto Soddisfatta Della Qualità Di Gin È Un Sito Che Ormai Dopo Le Innumerevoli Collaborazioni Mi Sento Assolutamente Di Consigliare Perché La roba Arriva Velocemente A me Ormai In Meno Di Dieci Giorni Tanto Che Addirittura Sospetto Che Abbiano Dei Magazzini In Europa Perché Altrimenti Non Mi Spiego Come Dagli Altri Siti Ci Voglia Molto Più Tempo Rispetto Alle Spedizioni Di Shin Davvero C'è Un Delta Molto Ampio Tra Il Tempo Di Spedizione Di Questo Sito Di Shin E Il Tempo Di Spedizione Degli Altri Siti Quindi Non Saprei Davvero Magari Hanno Dei Magazzini In Europa Magari Glielo Chiederò Alla Ragazza Con La Quale Mi Interfaggio La Pessima Volta Maggio Super Curiosità Quindi Sì Assolutamente Consiglio Shin Lo Trovo Davvero Valido Per I Prezzi Che Ha Ovviamente Non Sono Capi Di Seta Di Cash Beer Per Quelli Ovviamente Bisogna Spendere Cifre Diverse E Sono Negozi Di Altro Tipo Però Per La Moda Low Cost E Comunque Capi Carini E Sfiziosi Lo Consiglio Assolutamente Detto Questo Io Spero 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 Di E Soprattutto Rilassati Con I Suoni Dei Tessuti Suoni Delle Bustine E Con Il Mio Whispering Io Vi Auguro Una Splendida 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 Notte E Noi Ci Vediamo Prestissimo 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 A un prossimo Video Un bacio Grandissimo E a presto